buona a tutti oggi è una bella giornata vediamo la faccia se ora questa è la faccia di una persona che si è arrivata alle 14 anche questa però è solo per venire fino a qua che paesaggio si utilizza sui gatti buongiorno lui è il mio autista e noi siamo arrivati qua amore però dimmi la verità devo farti questa domanda ti piace questo lago per piacere tre ore di viaggio e 200 chilometri per questo lago andiamo in barchetta così ti rilassi te remiti se vuoi secondo me non è tanto nessuno a riguardo solo da farsi le foto guarda che bello qua spiegati vediamo come è venuto questo video si siamo pronti passa passa mi rovini la ripresa non capisci adesso dobbiamo rifare la scena sta registrando vedo se va bene anche se ridete non me ne frega stiamo facendo il giro del lago ma saprete già che lago è ma dalle immagini probabilmente qualcosa intuirete ve lo dirò alla fine poi sotto sui commenti se volete potete pure indovinare che lago è che dice lei a me mi piace a me mi piace stiamo continuando il giro del lago vediamo il cicerone qui davanti che ci spiega questo è il pezzo del lago che è il pezzo figo trezzo grazie continuiamo il giro dopo aver fatto una sosta foto lunghetta a me piove 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 la piastra ma vado in canale poco ci fermiamo a mangiare aspetta aspetta no perché meraviglia qua accendimi la macchina buongiorno hai mangiato la mortadella e anche la soppressa a che ora 12 e mezza di mattina c'è chi fa colazione invece panino con la soppressa e con la mortadella eccolo qua ed ecco una dolomite a vicina vicina bellissima tutti influencer di instagram qua intorno ci siamo anche noi c'era anche quella col vestito rosso vabbè però il panorama vale la pena nella verità simone il sole il sole bacia i belli non so se ci ho ripreso ma anche meraviglia guarda che meraviglia non so se ci ho ripreso ma anche più Grazie a tutti. Grazie a tutti. A prendere il pulma o ad avere già comprato il biglietto online del parimento. Ciao alla prossima. Ah dimenticavo vi lascio un po' di foto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.